Hai dolori alla schiena, alle spalle, al collo, scarsa sensibilità o formicolio alle gambe? La tua postura è scorretta? La soluzione che mette fine ai tuoi problemi oggi c'è! E ce ne parla il nostro esperto. Si chiama Acti Posture Magnetic Plus, il corsetto posturale che elimina i dolori alla schiena, alle spalle, al collo e alle gambe e al tempo stesso ti dà il perfetto sostegno per garantirti una postura e un allineamento vertebrale corretto. È estremamente comodo, facile da indossare e privo di effetti collaterali. E finalmente potrai ritrovare la vita che da sempre ti meriti e ritornare a fare quello che hai sempre desiderato, senza più fastidi e dolori. Sì, perché grazie alla sua conformazione appositamente studiata e al suo materiale innovativo in cotone traspirante i 12 magneti collocati in punti strategici generano un effetto analgesico e antinfiammatorio, noto come magnetoterapia, che cura i dolori muscolari, lombari, cervicali, osteoporosi, artriti, sciatalgie e reumatismi. Se vuoi dire definitivamente addio ai dolori, se vuoi correggere la tua postura per sempre, chiama e approfitta subito dell'offerta 2x1 a questo incredibile prezzo. Riceverai ben 2 Acti Posture Magnetic Plus al prezzo di 1. Mi è di grande aiuto, posso finalmente uscire con le mie amiche e non sento più il male alla schiena e alle gambe. Acti Posture Magnetic Plus, il tuo benessere inizia da qui!